Saluto a tutti i videoascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessantissimo saggio appena pubblicato da Viella che si intitola l'ordine delle scritture il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardo medievale di Isabella Lazzarini e il piacere è doppio perché a presentare questo libro c'è l'autrice in persona alla quale io come mia abitudine do subito la parola per non rubare altro tempo prezioso quindi prego Isabella parlaci di questo libro. Tante grazie Maurizio, grazie agli ascoltatori, grazie dell'opportunità appunto di parlare di questo libro che è un libro cui tengo molto perché raccoglie una serie di saggi vecchi e nuovi su cui sto pensando quindi su un tema su cui sto riflettendo da ormai una ventina d'anni che non è un tema semplicissimo pur avendo i suoi aspetti piacevoli, divertenti, narrativi nel senso che appunto si tratta di una serie di saggi incentrati sul paesaggio delle scritture pubbliche di governo elaborate dagli stati italiani nel tardo medioevo cioè trecento, quattrocento, primissimo, cinquecento. Qual è il punto? Il punto è che tendenzialmente gli storici, gli studenti di storia medievale, coloro che si interessano a questa cosa hanno un approccio verso la documentazione che è in primo luogo un approccio strumentale cioè i documenti sono contenitori di dati, di informazioni. Un catastro come il catastro fiorentino del 1427 ci dà un'infinita serie di informazioni sulle strutture delle famiglie, sulla composizione dei patrimoni della città di Firenze a un momento dato. Ecco i documenti sono però tutti i documenti, tutte le testimonianze scritte ma questo vale anche per le testimonianze visuali per esempio, sono però in realtà qualcosa di più cioè ci dicono anche una serie di cose che ineriscono alla loro propria logica. Come sono stati concepiti? Sono in qualche modo una chiave per la visione del mondo di chi li ha scritti. In qualche caso i documenti, nella maggior parte dei casi però è difficile a volte rintracciare questi legami, i documenti costituiscono un sistema, un sistema interrelato, cioè sono unità diverse, strutturalmente diverse, che però compongono un sistema organico che funziona secondo determinate logiche. Da qui l'idea del titolo L'Ordine delle scritture che prende un po' ambiziosamente un titolo famoso di Foucault, L'Ordine del discorso che si riferiva ovviamente a tutt'altro, però l'idea è un po' questa di studiare quindi una sequenza, una serie di tipologie documentarie tardo medievali italiane cercando di leggerne l'ordine, cioè la interconnessione, come si parlano fra loro per mettersi a sistema e le logiche strutturali, cioè come a loro volta un insieme di documenti ordina il mondo di cui parla per cui seleziona le modalità per elencare le cose, elencare le persone, gli oggetti, trasformare il contenuto appunto per esempio nel caso delle lettere diplomatiche che vengono trascritte nei registri in cui poi rimangono in copia, queste lettere vengono parzialmente modificate. Quindi insomma si tratta di un libro che affronta d'un lato il problema della trasformazione delle forme del potere italiano tra 3 e 400 perché è il potere politico che produce questo tipo di scritture, cioè le scritture pubbliche e dall'altra appunto la loro natura. La loro natura quindi diplomatistica, come vengono costruite, come vengono organizzate le informazioni nei singoli documenti, paleografica, qual è la loro natura grafica, come vengono scritte e quindi materiale, supporti, le carte, il papiro, il papiro poi per questo periodo non c'è ma la pergamena, supporti materiali e ovviamente poi tutti gli aspetti di tipo contenutistico. È un libro appunto composto di capitoli che io ho rivisto, sono costituiti da saggi che sono usciti in riviste e in atti di convegni ma che io ho risistemato e ricordinato, alcuni di questi sono nuovi e ha quindi anche l'ambizione di testimoniare un attimo un percorso di studi della storiografia italiana e non solo italiana su questo argomento perché paleografia, cioè la scienza che studia le forme grafiche, la scrittura in quanto tale, la diplomatica, cioè la scienza che studia la forma documentaria, come vengono costruiti i documenti e l'archivistica che invece studia appunto come si sono organizzati i documenti in archivi, hanno conosciuto una grande trasformazione nella loro natura nel corso del novecento. Sono diventate sempre più delle scienze in rapporto stretto con la storia politica e la storia sociale, cioè scienze in cui c'è una profonda conoscenza del dato tecnico, di come si sono evolute le grafie, di come si sono organizzate le cose, ma questo viene sottoposto a una serie di domande che le avvicinano di più alla storia, per cui appunto è importante fare un attimo il punto negli anni 70-90 grandi paleografi diplomatisti in Italia come Armando Petruccio, come Artilio Bartoli L'Angeli o Paolo Cammarosano che è uno storico che però ha fatto un libro importante sulle fonti, hanno proprio come dire traghettato questa questo incrocio disciplinare importante. Dagli anni 90 in poi non si è più potuto parlare di fonti in modo diverso, cioè evitando di rispondere a domande di tipo storico e quindi in qualche modo questi saggi che coprono un ventennio tra il 2000 e il 2020, il 21, fotografano anche questa trasformazione e quindi sono in questo senso anche credo una testimonianza interessante di come un intero gruppo di studiosi, non soltanto io come sono solo una, uno dei tanti, ha affrontato e approfondito progressivamente questo tipo di approccio nuovo alla documentazione. Di cosa parliamo in questo libro? Qual è il contesto? Allora io ho detto in generale appunto l'Italia tardo medievale. Ecco l'Italia del tre quattrocento, in particolare appunto la parte centro settentrionale, sono il risultato di una serie di trasformazioni dell'Italia appunto alto medievale, tra una parte di sovranità imperiale, una parte di sovranità pontificia, poi il mezzogiorno che conosce una storia tutta particolare, tutta sua. Nel tre quattrocento questi insieme di organismi di potere che sono grandi comuni, che sono signorie cittadine, che sono principati di natura feudale come il comitato e poi l'educato di Savoia, che sono principati episcopali come i principati vescovili di Trento, il patriarcato di Aquileia, le città appunto come le Firenze, Venezia, con una proiezione marittima o meno, con una estensione territoriale più o meno importante, costituiscono quindi una sorta di mosaico di poteri molto diversi fra di loro, con eh che fanno peraltro riferimento a una serie di tradizioni documentarie eh relativamente comuni. In che senso? Nel senso che tra undicesimo e dodicesimo secolo nelle città ovunque, sia al nord sia al sud, cresce il notariato, cresce una classe di professionisti della scrittura con valore giuridico che trasforma il paesaggio alto medievale della documentazione. Eh quindi base notarile, grandi tradizioni cancelleresche, la cancelleria imperiale, la cancelleria sveva, no? Di Federico II, di Pier delle Vigne, la cancelleria pontificia con una tradizione ancora più lunga. Quindi una serie di filoni della scrittura documentaria che eh arrivano a più o meno tutti i protagonisti politici del tre quattrocento e vengono però chiaramente trasformati a seconda delle esigenze. È un contesto altamente conflittuale, in particolare del trecento la cui storia politica è veramente improba da da conoscere, nel senso che è una successione di guerre di tutti contro tutti, città più grandi contro città più piccole. Eh nel regno del sud ci sono questi scontri tra la dinastia aragonese basata in Sicilia, la dinastia angioina basata eh nella parte continentale dell'antico regno di Sicilia, unitario sotto gli svevi. Questi conflitti sono su base locale e regionale ma progressivamente tra tre e quattrocento diventano sempre più peninsulari, no? Si eh stemperano lentamente solo con la metà del quattrocento, la famosa pace di Lodi, la Lega Italica che in qualche modo ehm cercano di mantenere la situazione entro una forma di di controllo reciproco. Ecco, attraverso questi due secoli di eh trasformazioni e di conflitti ripetuti e di di proporzione sempre più maggiore eh i vari poteri appunto italiani tanto le signorie quanto le città repubblicane quanto la stessa monarchia del Mezzogiorno mh come dire passano attraverso una trasformazione interna cioè c'è una sorta di ispessimento degli apparati del governo pubblico, no? Cioè siamo lontani dall'idea di uno Stato qual si voglia, si tratta di poteri, usiamo una parola un pochino più neutra, che però eh sviluppano delle modalità, degli strumenti di gestione che sono delle finanze, della guerra, della diplomazia, una rete di uffici e di ufficiali. Tutto questo questo diciamo questo moto di trasformazione che poi si declina in modi diversi a seconda di contesti per cui chiaro nelle signorie è guidato da un'autorità di un principe o di un signore, di una dinastia, nelle repubbliche ancora molto legato a una gestione collegiale del potere, procede ovviamente in modi diversi, ha bisogno di scritturazione. Cioè si traduce e si compie perché è il 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 punto è tutto qui eh nel momento in cui si cominciano a sperimentare modalità di registrare per registrare alcune fasi importanti. Per esempio ci sono molti più ufficiali nel territorio, nel contado, vengono mandati vicari, castellani, tesorieri, dalla dominante alle città dominate o il territorio delle singole città. Ecco, costoro vanno scelti. Per scegliere gli ufficiali occorre le varie i vari poteri, le varie città elaborano delle strategie diverse. Eh se si tratta di di città reggimento signorile è il principe che sceglie sulla base di tutta una serie di considerazioni e tutta una serie di networks che ruotano intorno alla corte e alla città capitale. Se si tratta di una repubblica eh la scelta viene a sorte per lo più in un m pool di elegibili, di cittadini che hanno i requisiti per poter partecipare questo tipo di ehm eh di selezione diciamo requisiti che sono di età, sono di eh livello fiscale, che sono di tutta una serie di di cose. Quindi vanno prima di tutto registrati, vanno contati quelli che possono farlo o non farlo. Mh beh vanno poi distinti a seconda del tipo di ufficio per cui stanno concorrendo, un ufficio nel territorio, gli uffici centrali, quali uffici centrali, più alti, più bassi eccetera. Dopodiché parte tutta la fase della selezione a sorte. Cioè i nomi vanno scritti, vanno in striscioline, vanno poi riposti, vanno imborsati, infilati nelle buste, tirati fuori dalle buste e trascritti ulteriormente. Capite? Quindi ci sono poi tutta una sequenza di registri, di volumi in cui tutte queste fasi vengono vengono trascritte. Ecco questo processo di scrittura è un processo importante ed è importante perché rende facile o possibile una procedura amministrativa, diciamo, che diventa sempre più complessa. Pensate, per leggere un doge di Venezia ci volevano 42 passaggi, per cui ho voglia registri, vorrebbe da dire. Ma anche la formulazione, cioè la creazione del tipo registro che registra queste diverse cose, scritto in un certo modo piuttosto che in un altro, è anche qui frutto di una scelta, di una scelta che in qualche modo ordina la realtà stessa che vuole registrare. Non è un'operazione netta. Per cui fare le liste in un certo modo, per esempio, una cosa banale per noi, noi come intendiamo un ordine alfabetico? Lo intendiamo per cognome. Ecco nel Medioevo, nel Tardo Medioevo lo intendevano per nome e non è praticissimo. Per esempio, gli indici dei contratti notarili, dei grandi registri di contratti notarili che venivano depositati nell'ufficio specifico di varie città perché non rimanesse copia, erano indicizzati per nome proprio. Quindi Ioannes, 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 Ioannes. E poi c'era il cognome, però avevi una infinita sequenza di Giovanni che dal nostro punto di vista non è così pratico. Per cui ci sono tutta una serie di cose, di dettagli minimi di questo tipo che ci danno un'idea di che cosa potesse essere la mentalità che stava dietro a questo tipo di operazione. Quindi, come dire, questo processo di spessimento dell'apparato pubblico del governo è un processo che si traduce immediatamente in scrittura. Non è una novità, nel senso che appunto c'è un'eredità importante d'età comunale per l'età centro-settentrionale e di età monarchico, imperiale monarchica per il mezzogiorno. Quindi non è che ci sia un deserto. Anzi, parte dell'interesse che si parte da un panorama documentario fatto in un certo modo e se ne sviluppano alcuni caratteri in continuità e si creano delle, come dire, delle tipologie nuove o comunque abbastanza diverse. Per cui, per esempio, la forma registro, cioè del volume di carte in cui vengono scritti in ordine cronologico giorno per giorno gli atti relativi al funzionamento di un determinato ufficio, è una invenzione, diciamo così, duecentesca, comunale, no? Quella che Jean-Claude Mervigueur aveva definito anni fa, la rivoluzione scritturale del comune, che passa dagli atti sciolti agli atti in sequenza, in un unico registro e poi in serie di registri anali. Con il 3-400 però questi registri subiscono un'ulteriore trasformazione e diventano veramente molto tipologici, molto specifici, registri di lettere patenti, registri patenti di nomina, scusate, quindi registri per le nomine agli uffici. Le litere patentes sono le lettere dell'autorità, che sono aperte in realtà, no? Sono palesi perché sono emanate da un ufficio o da un principe a favore di un singolo. Per esempio, io chiedo il permesso di portare le mie masserizie da Milano a Mantova senza pagare dazi di confronto, infine, mi viene scritto, mi viene consegnata una letterina in cui si scrive che, per le ragioni più diverse, il duca di Milano mi permette di fare quest'operazione senza pagare dazi. Ecco, questa è una litera patentes perché io la posso far vedere agli ufficiali milanesi quando esco da Milano e gli ufficiali mantovani quando entra a Mantova. Ci sono poi registri di lettere clause che sono invece le lettere vere e proprie, le lettere missive inviate da un destinatario, scusate, da un mittente a un destinatario con un contenuto diverso, no? Quindi a diplomatiche, politiche, familiari eccetera. Ecco, tutte queste diverse tipologie, le lettere di grazia per cui uno è condannato per qualche cosa, si appella al tribunale superiore o al principe, gli viene concessa la grazia di non pagare o di non subire pene determinate, no? Queste diverse tipologie cominciano a essere trascritte in registri appositi, invece di essere trascritti in ordine cronologico semplice in un unico registrone che poi si sussegue l'uno all'altro. Ci sono poi delle logiche ancora più articolate di organizzazione di questo complesso di registri che diventano sempre più significativi. Ecco, si tratta quindi di considerare a seconda dei diversi contesti questi insieme di scritture e della loro trasformazione. Trasformazione che risponde appunto a delle logiche di varia natura. Ecco, questo è un altro punto importante. Sinora abbiamo parlato di logiche di gestione, cioè un organismo politico si struttura per reggere un territorio più ampio perché sono stati questi che diventano più grandi territorialmente, quindi meno come numero ma più ampi da un punto di vista territoriale e quindi hanno problemi ovviamente di gestione maggiore, no? Perché uno stato come il Ducato di Milano della fine del Trecento ha la capitale Milano che è già una città notevolissima come densità demografica, come diversificazione sociale, come storia e poi controlla tutta un'altra serie di città e dei loro contadi, i loro distretti di campagna e quindi l'intera faccenda si complica ulteriormente. Ecco, la prima cosa che ci interessa è la logica che produce questi documenti, quindi una logica di gestione contemporanea. Vengono fatti questi registri, queste lettere, vengono emanati questi atti, spedite queste lettere per gestire gli affari correnti. Poi abbiamo ovviamente, questi documenti vengono organizzati mentre vengono prodotti perché servono, per cui si accumulano nelle cancellerie o negli uffici in modi che, di cui abbiamo notizie, notizie sparse naturalmente abbiamo indizi che però lasciano supporre che chi lavorava fosse in grado di trovarli con una relativa facilità. Per esempio le lettere, le lettere missive, una volta arrivate in cancelleria, venivano infilzate, cioè c'era una base di legno a cui era attaccato una lunga fune con una parte finale di metallo appuntita. La lettera veniva infilzata e mano a mano che arrivavano, quindi con un ordine banalmente cronologico da dovunque arrivassero, venivano infilzate e quando arrivavano a un certo livello la filza veniva chiusa e veniva riposta. La ragione per cui quando noi guardiamo adesso le letterine, se guardiamo c'è sempre un forellino al centro perché è il foro della filza. Ecco, quindi c'è produzione e organizzazione per l'uso immediato. E poi abbiamo ovviamente altri livelli, la conservazione per un uso sul medio periodo che è interessante perché che cosa significa? Una volta che lo stanzone centrale di una cancelleria che possiamo immaginare diviso in tavoli con scrivi e cancellieri che facevano il loro lavoro, gli armadi attaccati ai muri in cui venivano riposti, cassoni in cui venivano messi sacchetti eccetera eccetera, quando si riempie a un certo punto va spostato perché diciamo le scritture che servono a quel punto sono altre, non sono più quelle degli anni dieci anni prima. Si spostano altrove, si occupano altri spazi, questa cosa però deve rispondere a sua volta a una logica in modo da poterle ritrovare e alla logica di tipo alluvionale progressivamente si sostituisce una logica di tipo archivistico, cioè si mettono in ordine secondo determinate tecniche, usando sigle numeriche, alfanumeriche, nomi di riferimento, il cassone dell'Aquila contiene tutti gli atti dell'impero, nomi che associ tendi ad associare al contenuto. Questo tipo di organizzazione dà origine a degli inventari perché appunto è poi utile avere sotto mano come dove trovare e gli inventari cominciano ad essere interessanti, quindi perché ovviamente la distribuzione geografica di vent'anni dopo, cinquant'anni dopo non siamo più in grado di ricostruirla, ma grazie all'inventario possiamo in qualche modo immaginarla. Questi inventari ci danno un'idea dell'ordine che avevano in quel momento, vale a dire comincia a operare una logica che non è più solo di organizzazione e di gestione, ma di costruzione della memoria, cioè di costruzione di un sistema documentario che risponde a un determinato tipo, a una determinata idea dell'identità del potere che ha prodotto queste cose. Faccio un esempio banale, minimo. 1466 muore il duca di Milano Francesco Sforza, il capo della cancelleria sforzesca Cicco Simonetta dà ordine di intraprendere la trascrizione in un unico grande registro per gamenaccio di una certa qualità materiale, delle paci e dei trattati di alleanza stipulati da Milano a partire dall'età di Filippo Maria Visconti, cioè il nonno del giovane re di Galeazzo Maria, sino all'età del nuovo duca. Ecco, questo registro è un archivio in sé in qualche modo, un cartulario diplomatico, un registro che raccoglie un piccolo archivio diplomatico in sé. Questo registro ha un proemio dettato direttamente da Cicco Simonetta in latino in cui Cicco parla in prima persona e dice con chiarezza, questo ho fatto fare questo registro perché qui ci siano raccolte da ogni dove le scritture che serviranno al regnum tum, al tuo governo, regnum peraltro, usato non a caso anche se si tratta di un duca. Quindi qual è l'idea che sta dietro a tutte queste operazioni, di costruire ex post, quando ancora il potere è, diciamo, operativo, ma anche 20, 30, 40 anni dopo, un'immagine retrospettiva di questa stessa autorità, di questa stessa sovranità, che ha determinate caratteristiche. In questo caso le cancellerie del secondo quattrocento sono piene di umanisti, sono piene di persone che hanno come riferimento gli imperatori romani che hanno letto tutto Livio, Svetonio e questa gente qui e che quindi dà al potere, danno al potere una certa qualità di rappresentazione. E poi un passo ancora successivo in questa storia di conservazione, molto più tardo, che comincia col cinquecento ma che si compie soprattutto tra sette e ottocento. Quando cioè queste grandi masse di documentazione vengono riordinate, riguardate, sistematicamente, secondo delle logiche di conservazione che però non corrispondono più alle esigenze per cui sono state prodotte e ancor meno a queste esigenze di ricostruzione di un'identità che erano state quelle che avevano determinato la prima forma, diciamo, degli inventari che avevano. Faccio solo due, poi ci torneremo probabilmente un attimo, facciamo uno, l'esempio dei carteggi. Ho detto prima, le lettere arrivano nelle cancellerie e vengono in buona misura conservate in ordine cronologico, la cosa più semplice. Progressivamente tra quattro e cinquecento si cominciano a distinguere le lettere che vengono da dentro al dominio, quindi dentro lo Stato di Milano, dentro la Repubblica Fiorentina e quelle che vengono da fuori, lettere interne e lettere, diciamo, estere. Progressivamente questa distinzione si fa sempre più evidente, tanto che poi in sette, ottocento si creano delle serie che sono quelle che rispondono alle relazioni internazionali, cioè a un'idea di un sistema di nazioni sovrane che intrattengono rapporti di natura diplomatica di un certo tipo, soltanto tra ambasciatori con credenziali e ambasciatori qualificati e che rispondono ovviamente all'idea che nel settecento, soprattutto nell'ottocento, ci si è fatto di un sistema di relazione internazionale, che non è in alcun modo corrispondente a quello che era nel quattrocento. Quindi queste ultime grandi operazioni di archiviazione avvengono secondo logiche ideologiche proprio di costruzione del significato delle funzioni di potere, la diplomazia, la giustizia, la gestione dei confini, eccetera, eccetera, che sono molto diverse e che quindi in buona misura alterano l'ordine originario impedendoci di leggerlo con chiarezza, ma d'altro canto ci dicono anche molto della cultura che le ha espresse in quanto tale. In seconda cosa, con l'avvento di un sistema di ordinamento archivistico tra sette e ottocento che andava per materie, siamo nell'età dell'illuminismo per cui l'idea era di mettere in ordine per materie, la giustizia, i confini, le acque, il controllo del territorio, il patrimonio della dinastia, i grandi patrimoni documentari vengono proprio rotti e rimpilati, rinscatolati in altri contenitori, rendendo la nostra lettura ancora più difficile, la nostra lettura del passato, ma ovviamente dandoci tutta una serie di informazioni su come si è evoluta la consapevolezza di sistema documentario, che è appunto un ordine del mondo, perché nel momento in cui tu decidi che tutte le materie che riguardano le acque, voglio dire, la pianura padana era un elemento fondamentale, no? Che genera infinite, infiniti conflitti, microconflitti di giurisdizione, l'acqua del mincio, il tal canale, la sponda, l'isoletta, c'è montagne di documentazione. Nel momento in cui tu decidi che quella cosa lì va a parte, prendi tutte le lettere, tutti i mandati, dei vari uffici che avevano a che fare con questa materia, ma con altre materie ancora, le isoli e crei un nuovo, una nuova idea, no? Un nuovo soggetto documentario che non c'era. Poi in qualche caso si è tentato di tornare indietro, per esempio a Milano, dove hanno fatto questo lavoro in maniera molto sistematica, i primi del Novecento hanno tentato di tornare alla condizione precedente, perché hanno rotto e rimesso insieme con ulteriori problemi, perché poi ti sbagli, perché tu c'è un buco, perché poi non trovi il registro. Ecco, queste logiche, che sono logiche di archiviazione, sono però strettamente legate appunto alla logica della produzione documentaria in sé e alla logica della costruzione della memoria. Cioè, come vuoi presentare, tu che so, Maria Teresa d'Austria, il tuo dominio Lombardo-Veneto, negli archivi imperial-regi a Viena? Lo vuoi presentare in un certo modo, perché hai un'idea dell'ordine del mondo, come dovrebbe essere, che non è ovviamente corrispondente a tutto questo. Quindi, questo libro di che parla? Parla di varie tipologie di documenti, documenti in registro, abbiamo detto registri che contengono, i registri di fatto sono dei contenitori di trascrizione, perché i documenti originali vengono inviati ai destinatari e svolgono la loro funzione e quindi vengono in buona misura perduti. Quello che rimane a noi sono le trascrizioni. Sono registri contabili, dobbiamo pensare ci sono uffici di varia natura, fiscale, patrimoniale, tesorerie, cioè di spese della corte o del governo, che fanno conti su conti, settimanale, mensile, semestrale, poi i bilanci annuali. Sono stati falcidiati dalla conservazione, questi documenti purtroppo nella maggior parte dei casi, perché nel settecento vanno a vedere e riguardano questioni patrimoniali che non esistono più da tempo e che quindi vengono in parte eliminati perché non servono più, mentre invece documenti di natura politico-diplomatica sono comunque qualcosa che gli archivisti hanno tenuto più caro perché erano più importanti, erano più interessanti, erano più divertenti. Registri di conti ne sono rimasti pochi. Registri poi appunto di lettere, registri di mandati, registri vari di sentenze eccetera eccetera. Abbiamo poi da un certo momento in poi un'enorme quantità di lettere, di carteggi, che sono una fonte spettacolare. Spettacolare perché progressivamente, cioè la lettera è una forma diplomatistica antichissima. Petrucci ha scritto un libro bellissimo su mille e passa anni dell'epistolarità. A partire dall'antichità abbiamo tracce di lettere in senso proprio, cioè proprio mandate da X a Y per una comunicazione scritta in assenzia. Quindi uno uno scheletro diciamo molto semplice che si può riempire di contenuti diversissimi, per cui abbiamo, che so, i grandi epistolari umanistici che sono stati pensati in realtà per circolare dopo la riscoperta delle lettere ciceroniane e quindi che costituiscono diciamo tutto un genere a parte, ma anche le lettere vere e proprie su quelle mandate veramente da un da un mittente individuato a un destinatario individuato, possono essere molto diverse e fra tre e quattrocento subiscono una trasformazione qualitativa importante, cioè diventano sempre più lunghe, sempre più articolate. Si passa dal latino al volgare e quindi sia che siano lettere diplomatiche in cui questi agenti, ambasciatori che stanno sempre più presso le altre potenze, raccontano, perché il loro compito è anche ormai non tanto negoziare un singolo evento, ma raccogliere informazioni di tutto quello che può interessare il potere che gli ha mandati. Ecco, raccontano tutto i riti, le feste, l'arrivo degli ambasciatori, che cosa si discute politicamente naturalmente, perché è la cosa più importante, ma comincia a diventare politico, comincia a diventare importante da sapere anche tutta una serie di cose che direttamente politiche non sarebbero in teoria, per cui per esempio le forme della ritualità, nei principati le forme della vita a corte, per cui abbiamo queste narrazioni molto belle delle feste a corte, degli scherzi fra gentildonne e gentiluomini di corte, cioè pensate al castiglione, al cortegiano del castiglione e avete il quadro, come dire, letterario più alto di questo tipo di situazione. Lettere personali anche, lettere tra, per esempio, genitori e figli. Questa cosa si vede bene nei principati, nel Quattrocento c'è questa grande, come dire, trasformazione della pedagogia in senso umanistico, per cui abbiamo questi umanisti, Vittorino da Feltre, Guarino, Guarini a Ferrara, Vittorino a Mantua, tutta una serie di altri tanti umanisti a Milano, che elaborano dei processi educativi per i giovani principi e le giovani principesse. I giovani principi e le giovani principesse non imparano solo delle materie, diciamo così, ma imparano anche a scrivere e a scrivere di mano propria, anche se poi avranno cancellieri, per cui lo faranno sempre meno nell'età adulta, è una delle modalità che utilizzano, che i loro maestri impongono loro di utilizzare per dimostrare ai genitori che stanno imparando, ovvero scrivere delle lettere, per il debito, il debito della scrittura, per cui ai padri soprattutto, che sono per lo più in giro, ma anche alle madri, che so, a Milano appunto gli sforza, il Duca Francesco è a Cremona, a Milano rimane la Duchessa, però i figli più grandi sono nelle città del contato, del dominio. Scrivono ai genitori queste letterine, che sono importanti perché sono un segnale della loro alfabetizzazione, della loro acculturazione, ma anche servono in realtà per mantenere aperti, perché le lettere questo fanno, mantengono aperti dei canali comunicativi, che costruiscono una rete, una rete di familiarità attraverso dinastie principesche che non è detto che poi siano così affettuose al proprio interno, no? Appunto i figli di Francesco Sforza e il Duca di Milano sono caratteristici da questo punto di vista, abbiamo il primo genito, che ha un carattere non semplicissimo, poi tutta una serie di fratelli minori con ambizioni anche molto alte, il fratello che diventerà cardinale, non vanno d'accordo per tutta la vita questi fratelli tra loro. Però questa familiarità pregressa, che si costruisce anche attraverso questa modalità espressiva, è un tentativo di tenere insieme anche quello che è difficile tenere insieme, no? Ed è estremamente interessante perché le cancelle di anno conservato le loro scritture da quando avevano sei, sette anni, per cui hai proprio tutta l'evoluzione della, l'evoluzione grafica e questa costruzione di reti dinastiche, che poi appunto si ampliano e in questo senso le donne hanno un ruolo ancora più forte, perché poi anche adulte, spostandosi in un'altra corte o anche le aristocratiche fra di loro in altri contesti, uno dei compiti, diciamo così, caratteristici delle principesse sarà di mantenere e alimentare questa retta epistolare dinastica, che ci sono dei momenti in cui appunto in realtà serve, serve ad attutire il conflitto, serve a parare un attimo la conflittualità o sostituire un dialogo politico quando ci sono dei problemi. Ippolita Maria Sforza, la figlia, una delle figlie di Francesco Sforza viene sposata all'erede del regno di Napoli, Alfonso d'Aragona, quando scende a Napoli per poi per tutta la vita serve da, come dire, da canale di collegamento con il padre prima, il fratello poi, i fratelli poi, anche laddove o quando ci sono problemi che impediscono la comunicazione ufficiale, diciamo anche quando non ci sono due rilasciatori, anche quando non si parlano più, però il canale lasciato aperto da lei, aperto da lei, rimane, rimane aperto. Ci sono poi tutte queste, quelle che appunto i nostri colleghi francesi hanno chiamato recentemente le scritture grigie, cioè tutta quella enorme massa di scritture che non hanno un aspetto diplomatisticamente definito, non sono lettere, non sono registri, non sono mandati, non hanno un valore giuridico, ma come dire, mantengono in moto la macchina amministrativa, sono liste, sono note, sono minute, sono calcoli, sono inventari, sono tutte quelle scritture di contorno che fanno funzionare la macchina e sono particolarmente interessanti perché rivelano le logiche interne del sistema, cioè le logiche che tengono insieme e fanno funzionare il sistema documentario nel suo complesso. Per esempio una scrittura grigia per eccellenza può essere considerata l'indice di un volume di registri, di un registro, di un volume di lettere, di mandati, perché gli indici cominciano a comparire nel 400, sono messi all'inizio oppure alla fine dei volumi, sono in genere aperti, nel senso che si vedono mani diverse, sono iniziati dalla mano del cancelliere o del contabile che inaugura, diciamo, il registro, ma poi vengono completate ovviamente dagli altri e anche lì è interessante vedere che passano, che sono strumenti quindi come dire operativi, per lo più disordinati, mal scritti, mal conci. Da un certo momento in poi si comincia a considerare però il registro come un oggetto più formale, per cui c'è un incipit, per cui c'è una certa mise en page e a quel punto anche l'indice viene messo in fondo, viene fatto solo alla fine, quando il volume è chiuso, dà un'unica mano e assume tutto un altro aspetto, per cui primo 500 questi indici bellissimi con i titoli in capitale maiuscole eccetera eccetera, che si trasformano in qualche modo. Ecco, l'ultima tipologia di cui mi piacerebbe parlare, se abbiamo ancora un attimo di tempo e poi mi fermo, è quella del trattato di pace, perché è un caso abbastanza particolare. Allora, tra la fine del 600 e i primi decenni del 700 vengono pubblicate in Europa, a Parigi e ad Amsterdam, delle grandi collezioni di trattati internazionali, trattati di pace, leghe, alleanze, per lo più in francese almeno diciamo la cornice di queste grandi opere stampa in più volumi, anche se alcune poi riportano i singoli documenti nella lingua originaria, quindi in latino oppure nei diversi volgari. Ecco, quest'opera di sistematizzazione raccoglie i grandi trattati internazionali europei, a partire sostanzialmente da quelli francesi, franco-asburgici, quindi della grande lotta tra 4, 5, 600, tra la Francia e l'insieme dei domini asburgici, Spagna, Impero, eccetera eccetera, e poi progressivamente Francia, Inghilterra, l'Italia, che è ovviamente parte del sistema imperiale, almeno una parte di esso, ma poi il sud diventa spagnolo, insomma è integrata in questa cosa. Quest'operazione è un'operazione interessante perché, come dire, isola all'interno della massa di accordi e di tutte le carte che preparano, implementano e seguono gli accordi che hanno, sono stati reputati più importanti, isola i singoli trattati e ne fa in qualche modo degli oggetti definiti. La pace di Lodi, il trattato di Cattucambresì, il trattato di Vestfalia, fondamentale, 1648, 256 poteri rappresentati tutti intorno a Vestfalia e Osnabrück per tre anni, insomma un grande monumento all'Europa dei re dell'età moderna. Ecco, questa storia è esemplare di quello di cui parlavo prima quando parlavo della manipolazione, e uso una parola pesante, della documentazione pregressa. Io ho studiato in questo caso la pace di Lodi, che è una pace importante perché è quella che appunto pone fine in teoria, non è proprio vero, ma insomma si propone di porre fine a questi conflitti tre quattrocenteschi tra i poteri italiani, è alla base dell'idea appunto della nascita del principio dell'equilibrio, della non interferenza, no? Ci sono cinque stati maggiori, non si possono fare guerra fra loro, non possono allearsi con poteri esterni all'Italia, chiamando dentro gente che non vogliamo avere intorno. Ed è, e diventa, nella tardetta moderna e a partire dall'ottocento, uno di questi trattati di base di quella che è appunto un sistema di equilibrio tra le potenze. Se noi andiamo a vedere come è stato scritto davvero sulle fonti quattrocentesche, ci accorgiamo però che appunto era una cosa molto diversa, cioè era uno dei tantissimi tentativi di mettere insieme queste cose. È circondato, è redatto in modo diverso, a seconda delle diverse sedi, nel senso che ciascuno ha tenuto la parte che gli interessava di più. C'è una serie di capitoli che interessano a tutti, poi tutta un'altra serie di altri capitoli che si adattano a Milano, a Venezia, a Firenze, eccetera. Era talmente poco sentito importante il trattato in sé che abbiamo pochissime versioni originali in pergamena del trattato in quanto tale, ma abbiamo registri strapleni di tutte le fasi di preparazione e le fasi poi di applicazione. Per esempio tra Milano e Venezia tutta una serie di confini locali, minuti, sono stati poi rintracciati dopo, negoziati sul territorio, perché c'era quel cipo lì ma l'avete spostato, non l'avete spostato, la quercia ma piuttosto che il torrente, ma piuttosto che no. Questa che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che la diplomazia della metà del Quattrocento è qualcosa di diverso da un incontro come può essere la pace di Vienna del 1815, per quanto nel 1815 avessero tutto l'interesse a ricostruire una genealogia che andava così lontano nel tempo per un'questione di legittimità, perché è chiaro che una cronologia lunga legittima la versione attuale. Quindi insomma un'analisi, come dire, fine di alcuni aspetti documentari, alcuni fenomeni storici importanti, ci permette di giocare su vari livelli, capire meglio il fenomeno quando è accaduto, posto che ci si riesca, ma anche di capire poi le manipolazioni ideologiche e l'uso che di queste fonti è stato fatto in tempi molto diversi, anche molto lontani dalla loro scrittura, dalla loro produzione iniziale. Io direi che più o meno mi pare di avervi dato un quadro generale. No, è affascinante perché attraverso apparentemente noiosi e carte uno può scoprire un mondo e un universo che gli gira intorno e tracciare un panorama di lunga durata, di lungo periodo, quindi veramente molto 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 interessante. Io ripeterei il titolo del libro a questo punto che è L'Ordine delle scritture, il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardo medievale. L'autrice Isabella Lazzarini che è stata con noi, sono 396 pagine, pubblicato da pochissimo dall'editrice Viella. Lo consiglio anche ai non esperti, perché secondo me questo è magari non facilmente accessibile a chiunque, ma utile per comprendere anche la storia di come si sono evolute le cancellerie e i rapporti tra i vari poteri nel nostro paese fra 3, 4 e 500. Io ringrazio tantissimo Isabella Lazzarini di aver accettato il nostro invito. Vi ricordo come sempre di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove naturalmente troverete questa videopresentazione insieme a tutte le altre. E che dire, sperando di rivederci con la prossima pubblicazione quanto prima, grazie ancora. Grazie, grazie mille a te e a voi tutti quanti. Grazie. Grazie mille a te e a voi.